Il progetto Coliming nasce da un'esigenza della magnifica comunità degli antipiani cimbri riguardante lo spopolamento del territorio di montagna. L'obiettivo è quello di ripopolare quindi il territorio mediante la valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare rinsaldando e creando nuove reti sociali che fanno parte del welfare generativo mantenendo però al centro le politiche giovanili del lavoro e dell'ambiente. Luzerna è un piccolo paese di montagna, ha conservato le proprie tradizioni e la propria identità. Nell'ambito degli stati generali della montagna Luzerna è stato scelto come paese che non ha conosciuto il boom, lo sviluppo economico né di un turismo di massa e quindi in quanto tale paese nel quale poter sperimentare nuove iniziative, progetti da poter anche esportare verso altri paesi simili. Vivere a Luzerna significa rafforzare la sua comunità e rafforzare in particolare il servizio educativo linguistico Cluman e Lustigetrit, nel quale da anni o mai sperimentiamo un modello che ci garantisce la trasmittanza intergenerazionale dell'idioma di minoranza che è patrimonio dell'intero Trentino. Il progetto prevede la messa a disposizione di quattro alloggi per quattro nuclei familiari per i primi quattro anni incomodato gratuito. Vieni a vivere a Luzerna e fa parte della nostra comunità. I so leva a Luzern e nemmt do all in Londra.